Il compleanno di Laura Mulone, la bambina di 7 anni morta alle Macalube ad Aragona insieme al fratello di 9 anni. La madre Giovanna le scrive una lettera. Lei insieme al marito Rosario Mulone, 48 anni, e a Papa Francesco, è Giovanna Lucchese, 47 anni. Ed è la madre di Laura, 7 anni, e Carmelo, 9 anni, morti tragicamente nella loro Aragona, il 27 settembre 2014, travolti dall'esplosione di un vulcanello nella riserva Macalube. Domani, domenica 28 agosto 2016, Laura avrebbe compiuto 9 anni. E la madre oggi, sabato 27 agosto, le ha scritto una lettera. Eccola, a mia figlia Laura, amore mio, oggi è il 27 agosto, domani sarà il tuo compleanno e avresti compiuto 9 anni. Sono quasi 2 anni che non ti vedo più. Non mi resta purtroppo altro da fare che immaginare quanto potresti essere bella, cresciuta, più matura rispetto a quella mattina in cui ti vidi per l'ultima volta. Mi manca tutto di te, il tuo splendido sorriso, i nostri abbracci. Mi manca soprattutto il vederti crescere e donarti il mio amore. E invece l'unico regalo che oggi posso farti è quello di portarti dei fiori al cimitero. La fine che hai fatto assieme al tuo fratellino è talmente ingiusta che non posso farmene una ragione e non passa giorno in cui non mi chieda perché sia successo tutto ciò. Capisco solamente che dietro ad ogni incidente c'è sempre un errore umano e il mio imperdonabile errore è stato quello di sottovalutare il posto dove i miei cari stavano andando. Forse perché mi sono fidata di chi ha più conoscenza in materia di me non facendo i conti con la strafottenza umana di chi forse a suo dire si reputa titolato e fa in modo di attrarre più visitatori possibili non curandosi della loro incolumità e pensa solo egoisticamente al proprio tornaconto, altro che gestione. Ma credo fermamente nel lavoro dei giudici e degli avvocati affinché sia fatta giustizia ad una tragedia evitabile se non sottovalutata. Principessa mia, così ti chiamava papà, sì, sei proprio la nostra principessa e la morte tua e di Carmelo ci ha strappato il cuore per sempre. Non si può morire così solo per una gita di piacere per una visita in un posto tanto rinomato e poco protetto non si può morire per andare a visitare le Macalù, beh questo mio sfogo di scriverti questo mio pensiero può sembrare, può essere inutile ma ho sentito fortemente il bisogno di pensarti in questa lieta ricorrenza cioè il tuo compleanno, il ricordo del giorno in cui sei venuta al mondo e ti prometto amore mio che farò di tutto in mio potere per rendervi giustizia, almeno la giustizia terrena per quella divina ci sarà Dio. A voi, miei piccoli angeli, vi chiedo solo di darmi la forza per andare avanti in questa mia battaglia e avere la forza perché la vostra continua assenza è dolorosa e insopportabile. Laura, non dimenticare di dare un grosso bacio a Carmelo, il mio ometto. Mamma già pensa che il prossimo mese sarà il suo compleanno e che avrebbe dovuto compiere undici anni siete dentro di me giorno e notte come quando vi portavo in grembo vi amo tantissimo una mamma distrutta che chiede solo giustizia Giovanna Lucchese e che avrebbe dovuto compiere